Ciao, ciao a tutti, sono Eleonora Nicoletti, Anima Diamante. Premetto subito che facendo questo video sto decisamente uscendo dalla mia zona di comfort, ma non potevo non dare la mia testimonianza del percorso fatto insieme a Newbe. Che dire, io sono la classica ragazza della porta accanto che viveva una vita apparentemente semplice e tradizionale ed è stata poi catapultata in un film di Harry Potter. Il percorso Anima Diamante con Newbe è stato un percorso molto intenso, profondo, intimo, in cui Newbe mi ha completamente spogliata dei miei traumi, delle mie paure, dei miei blocchi e mi ha proprio accompagnata in questo percorso di riscoperta di me stessa. Mi ha dato la possibilità di lasciarmi fluire, di affidarmi all'universo, agli esseri di luce, di entrare in connessione con altre dimensioni che ormai fanno parte della mia vita quotidiana e di appunto riscoprire me stessa e ciò che posso realizzare in questa vita. È stato un onore per me lavorare con lei, un privilegio lavorare con lei e con i meravigliosi esseri di luce e affidare a loro questa fase evolutiva della mia vita. Quando l'ho conosciuta ero in una fase di totale smarrimento, ero alla ricerca per l'ennesima volta della mia strada, della mia realizzazione personale ed ero incastrata in una vita che non mi apparteneva. L'incontro con lei, con la mia fatina dei capelli rossi, come la chiamo io, è stato qualcosa di travolgente e non smetterò mai di ringraziare l'universo per averla portata sul mio cammino. Ora so che tocca a me continuare questo percorso evolutivo e con i suoi insegnamenti, suggerimenti, sto già iniziando a mettere le basi per realizzare ciò per cui sono qui. Un immenso grazie a Tieni Ube, a tutto quello che hai fatto per me, che fai tutti i giorni, anche per tutte le persone di questo gruppo. Mi manchi moltissimo, questo lo sai già, ma tanto non ti libererai molto facilmente di me. Un bacio, grazie a tutti, ciao!